Sto cercando di investigare sulle ragioni per le quali Taranto dal punto di vista turistico è un autentico flop e sto cercando di girare un po' in tutta la Puglia, non mi spingo chissà dove in ambiti, in zone del nord, del centro no, parliamo proprio delle realtà pugliesi, quelle a 90-100 km di distanza o anche con minore distanza mi trovo a Lecce in piazza Santo Ronzo, la città pullula di turisti allora chiariamo un aspetto, Lecce è una città artisticamente, culturalmente, storicamente all'avanguardia ma Taranto, grazie a Dio, non lo è da meno. Evidentemente a Lecce sanno fare turismo a Taranto l'amministrazione Melucci non ha proprio la più pallida idea di cosa sia fare turismo perché non è possibile che a 100 km di distanza, 90 km, da una parte Lecce sfonda come turisti e a Taranto vengono pochissimi, pochi turisti, molto pochi, al di là delle realtà estemporanee la nave da crociera che viene una volta a settimana con i turisti poi che vengono presi, caricati in bus e portati nella Valle d'Itra, Ostuni e altrui. C'è una incapacità da parte dell'amministrazione Melucci il sindaco Melucci, il vice sindaco Manzulli che si dichiara esperto di turismo, assessore allo sviluppo economico dovrebbero venire qui a Lecce a imparare come si fa a turismo. Melucci, Manzulli, vi offro io un weekend di vacanza a Lecce e così magari vi confrontate con gli amministratori di Lecce, col sindaco, con il delegato al turismo proprio per imparare a gestire turisticamente una città. Marketing turistico territoriale, interazione tra azione e attività in ambito di valorizzazione del territorio interazione tra attività privata e attività pubblica, privati ed ente comune sapete cosa significa questo? Sembra proprio di no, visto che Taranto è ridotta dal punto di vista turistico ai minimi termini, quasi alle pezze. Aprite un po', spalancate i padiglioni auricolari investigate, apprendete il vero significato del marketing turistico territoriale, ci fareste stare meglio credetemi, non è una cattiveria, ma vi manca proprio l'ABC nella gestione turistica Taranto, questo comporta un danno alle attività economiche di Taranto perché quando non hai turisti a Taranto, quando non sai promuovere il turismo quando c'hai gli infopoint per il turismo chiusi, tu crei un danno, tu impedisci tarpi leali allo sviluppo economico della città e i ristoranti, i bar, le strutture ricettive, i b&b, gli hotel, si ritrovano mezzi vuoti perché non c'è afflusso, non c'è appeal, questa è la rabbia perché l'ABC sì e il Taranto no? Perché voi non siete capaci di fare turismo questa è la realtà, non siete capaci e smettiamola con le solite puttanate parlate di Taranto, città turistica, ma qua, che ci sono quattro gatti a Taranto di turisti ma di che stiamo parlando? Sapete solo buttare soldi, 7 milioni e mezzo per i 6GP e poi qua ci stanno, quattro gatti restano a Taranto ma vi rendete conto? Venite a Legge, fatevi un giro e imparate e dimettetevi, levatevi da mezzo da Taranto politicamente parlando c'ho il fegato che scoppia, una città come Legge che merita che scoppia di turisti e a Taranto il deserto, ma levatevi da mezzo per favore grazie a tutti